Farlo invece con le bande armate della Libia era democratico? Io non credo, credo che la situazione fosse drammatica in quel momento e giustamente si fecero quei provvedimenti e si istituirono i CIE, li chiamavano CIE, i centri di identificazione ed espulsione, non rimpatri, espulsione li chiamarono e allora non si indignò nessuno, li fecero ovviamente, dopodiché decidono di modificare anche lì il nome perché sembrava più carino chiamarli CPR o giù di lì, ma vi pare normale, è evidente che questo accade, se qualcuno si è per caso indignato quando dopo aver contestato il fatto che il governo italiano aveva respinto la Ocean Viking e non aveva accettato che sbarcassero i migranti in Italia venne dirottata verso la Francia, arrivarono a Tolone i migranti e furono messi tutti in un centro di detenzione perché i democraticissimi francesi li hanno arrestati tutti, messi dentro e dopodiché li hanno espulsi, questo è quello che fanno in tutti i paesi perché la realtà che non c'è un paese d'Europa che voglia prendersi carico dei migranti.